Buongiorno, nel progetto e nella costruzione delle organi di macchine, generalmente si ha particolare attenzione al problema della rigidezza. La maggior parte degli elementi strutturali deve essere molto rigida, in modo tale che la sua configurazione in esercizio sotto i carichi di lavoro non si discosti troppo dalla configurazione progettata. Però c'è una classe di elementi che invece deve deformarsi e deformarsi in un modo controllato. Sono gli elementi elastici, diciamo le molle. In questa lezione vedremo quindi i vari tipi di molle senza peraltro poter esaminarli tutti quanti. Parleremo quindi delle molle a barra di torsione, delle molle a spire elicoidali, sia di compressione che di trazione, delle molle di flessione, delle molle a tazza ed accenneremo ad altri tipi. Parleremo brevemente delle molle non metalliche, sostanzialmente molle di gomma e accenneremo appena al problema delle molle a gas in pressione, gas springs, terminando come al solito con gli esercizi e letture consigliate. Vi dicevo c'è una grande quantità di tipi di molle e in queste immagini che adesso stanno scorrendo sul video vedete una sia una molle di piccolissime dimensioni sia molle di grosse dimensioni. Vedete molle che usano del filo avvolto ad elica per ottenere il comportamento elastico voluto sia molle di altro tipo come le molle a tazza sia ad anello intero che sia ad anello fessurato. Anche i materiali con cui possono essere realizzate le molle sono molto diversi. Da tutti questi materiali ci aspettiamo un comportamento elastico quindi è desiderabile che in tutto il campo di sollecitazione il comportamento sia elastico quindi la deformazione una volta il carico scusate una volta a zerato il carico la deformazione ritorni sostanzialmente a zero. Questo ideale viene più o meno approssimato anche se una certa possibilità di assestamento sotto carico è spesso possibile e deve essere valutato e mantenuto entro limiti accettabili. Quali sono le funzioni delle molle degli elementi elastici? Sostanzialmente accumulare energia, attutire gli urti, esercitare una forza di richiamo, fornire un precarico e modificare o meglio permettere di controllare la risposta dinamica di un sistema, ad esempio l'impiego nelle sospensioni dei veicoli. Può anche fare da motore e ha certamente altre funzioni come per esempio quello di poter misurare una forza. I materiali e i sistemi di costruzione degli elementi elastici sono materiali che sono spinti dal punto di vista della loro microstruttura, dello stato di trattamento in modo tale da avere un elevato limite d'elasticità e una elevata resistenza fatica. Generalmente è desiderato che il peso specifico sia limitato, anche se in maggior parte delle molle in acciaio il peso specifico è relativamente elevato. Vedremo poi per quale ragione conviene che la molla sia relativamente leggera. I processi primari a cui adesso accenniamo sono quelli di costruzione delle molle a filo avvolto ad elica, quindi le molle a spireo. Il processo primario sarà la trafilatura del filo che fa acquistare al materiale particolari proprietà che permettono di ottenere gli obiettivi indicati nel primo punto del cartello. C'è poi un processo di fabbricazione che influisce sul comportamento della molla e questo processo di fabbricazione nelle molle di piccole dimensioni viene fatto per deformazione plastica a freddo, mentre per quelle di grandi dimensioni occorre una lavorazione a caldo. Spesso gli elementi elastici sono soggetti a trattamenti termici, superficiali o speciali per migliorare le loro caratteristiche particolari della resistenza fatica. Vedremo oltre al cosiddetto pre-setting, quindi una sollecitazione al di là del limite elastico per creare degli stati di tensioni residue favorevoli, anche il procedimento di pallinatura ottiene questo obiettivo. In alcuni casi sono necessarie delle lavorazioni come per esempio la spianatura per molatura dell'estremità. La più semplice molla che possiamo considerare è forse la barra di torsione, quindi un semplice elemento generalmente a sezione circolare sollecitato da una coppia all'estremità. Le relazioni che in questo caso ci occorrono sono una relazione fra la coppia applicata e la tensione tangenziale e se metteremo un valore del massimo raggio della sezione circolare della molla potremmo quindi calcolare la tensione tangenziale massima di sollecitazione della nostra barra. La nostra barra poi sarà soggetta a una certa rotazione torsionale fra le due estremità che dipenderà dalla coppia, dal tipo di materiale, quindi dal modulo di elasticità tangenziale, dalla sezione della molla e dalla sua lunghezza. Vedremo che in seguito la determinazione di queste lunghezze pone alcuni problemi, in quanto la parte che effettivamente si deforma è diversa da quella di una schema semplice, di una barra che si deforma uniformemente da un'estremità all'altra. La rigidezza, che in questo caso sarebbe il rapporto tra la coppia applicata e l'angolo di rotazione, è l'altra grandezza tipica che serve per il calcolo di tutti gli elementi elastici. qua vedete due tipiche molle a barra di torsione. Nel primo caso le estremità hanno un accoppiamento striato, quindi un accoppiamento, uno scanalato, per trasferire la coppia che porta la parte di sezione più esile, che è quella che massimamente si deforma. Però bisogna tener conto anche di una partecipazione di questi attacchi alla deformazione, quindi una valutazione della lunghezza efficace della molla. Nel disegno sottostante invece è rappresentata una più economica barra di torsione ottenuta per piegatura e fissata in due boccole a queste due estremità e sollecitate tramite due parti su cui gravano delle forze esterne. in questo caso delle molle a barra circolare piena, le relazioni di calcolo precedenti si modificano introducendo le dimensioni del diametro della barra e in questa maniera possiamo calcolare la tensione nominale di riferimento massima in corrispondenza al punto più sollecitato della barra. L'angolo di torsione e la rigidezza sono ricavate dalle formule che seguono. Una delle tipi di molle più impiegate è quelle a spire elicoidali. Qual è la sollecitazione che prevale in questi elementi? Consideriamo alcune spire di una molla cosiddetta di compressione, cioè una molla che è sollecitata da azioni che tendono ad avvicinare fra di loro le spire. Se riportiamo sulla sezione del filo della molla la forza esterna che è applicata sull'asse dobbiamo introdurre un momento di trasporto, quindi un momento torcente. L'entità della sollecitazione torsionale è quella che predomina di gran lunga rispetto alle altre componenti, anche essendo presente certamente una sollecitazione di taglio e essendo inchinato, essendoci un certo angolo di inchinazione, in realtà sulla sezione retta della molla sono presenti anche sollecitazioni di flessione e di compressione. una molla spire elicoidale ha delle semplici parametri di dimensionamento, il diametro del filo, il diametro di avvolgimento medio della molla, potremmo anche definire il diametro esterno o il diametro interno e ci sarà una certa lunghezza della molla quando questa non è caricata. In questo e in altre figure, come pure nelle formule, devo fare una piccola avvertenza. Mi sono attenuto alla simbologia che è usata nel libro di testo. Tenete presente che nelle normative o nei manuali potrete trovare altre simbologie, forse meno intuitive, per indicare le stesse cose. Sotto carico quindi la nostra molla ha un certo abbassamento delta e la sua lunghezza si riduce, la distanza fra le spire si riduce anch'essa e se noi aumentiamo il carico ulteriormente potremmo arrivare alla cosiddetta sollecitazione a blocco, quindi con le spire che sono completamente a contatto l'una sull'altra. Calcolo di queste molle. Abbiamo detto che la sollecitazione predominante è quella di torsione, quindi il momento torcente è il momento di trasporto della forza sull'asse della singola spira e quindi la quantità riportata in questo cartello ci permette di quantificare poi la tensione nominale massima con una formula che è esattamente la stessa vista per le barre di torsione con le ovvie modifiche dipendenti dalla quantità del momento torcente applicato. Qual è la caratteristica elastica di una molla di compressione? Se escludiamo che la nostra molla possa superare il limite d'elasticità durante la sollecitazione, quindi rimane elastica per tutto il suo campo di sollecitazione, il suo comportamento approssima nel modo quasi perfetto la relazione elastica lineare fra forza e deformazione, quindi la tangente di questo angolo sarebbe la rigidità o la rigidezza della molla. Naturalmente se noi portiamo la molla alla situazione di blocco, quindi a completo contatto fra le spire, la deformazione sarà molto piccola per carichi anche elevati, quindi la nostra curva dal punto B in poi diventa molto più ripida, essendo la molla peraltro non più funzionante come tale, ma funzionante in modo simile a un manicotto. Vi ricordo che questa proprietà delle molle di compressione è vantaggiosa dal punto di vista della sicurezza, perché anche se il filo della molla si rompe, potendo andare a contatto fra di loro i fili, si mantiene la capacità di trasferire carichi. Per le molle invece, cosiddette di trazione, che vedete in questo cartello, la situazione invece è diversa. Intanto alcune altre differenze. Le molle di trazione sono avvolte con un certo precarico iniziale, quindi partono, si parte diciamo con le spire che sono a contatto fra di loro ed occorre anzi un certo sforzo di precarico per incominciare a allontanarli. Poi ci sono le estremità, che qui sono rappresentate molto schematicamente, ce ne sono di varissimi tipi. Generalmente i punti d'attacco sono punti di maggiore concentrazione della sollecitazione, quindi punti delicati per la resistenza di tutta la molla. A differenza della molla di compressione, se si rompe in qualunque punto, la molla di trazione perde la capacità di trasferire carichi. Sottocarico, quindi, la molla di trazione avrà una sua deformazione e, a parte questo, la differenza sostanziale con la molla di compressione è proprio la presenza di questo precarico iniziale. In questo cartello vedete la curva carichi-deformazioni che mostra come occorre una forza esterna uguale almeno al carico F0 per incominciare ad allontanare fra di loro i fili, le spire della molla. Quindi la molla di trazione è precaricata e il suo grafico, carico-deformazione, parte dal punto B e non dall'origine come è il caso della molla di compressione. Superato un certo valore ci potrà essere lo snervamento del materiale e quindi ci potrà essere una plasticizzazione più o meno estesa dell'espire e quindi cambiamento della curva che non è più elastica. Quindi se superassimo questo limite ritorneremmo a un precarico inferiore con una retta di scarico parallela a quella di carico. Anche per le molle elicoidali esistono dei problemi di concentrazione delle sollecitazioni di cui il caso degli attacchi è solo uno. Ma il più importante e forse più interessante è quello che riguarda il fatto che noi applichiamo delle formule di calcolo ricavate per barre a rettiline, come nella barra di torsione, a degli elementi che in realtà sono avvolti su un'elica. Quindi vediamo uno dei problemi che riguardano soltanto le molle, l'effetto della curvatura. Questo effetto si può illustrare con questi cartelli. Prendiamo una porzione della spira della molla e vediamo come individuare su questa porzione due linee tracciate rispettivamente sull'estradosso e sull'intradosso della spira. Quindi le linee AA' e le linee BB' rappresentate in verde di due tonalità. Poi disegniamo su questa sezione della spira della molla che corrisponde ai punti A e B una linea bianca che unisce i punti A e B. Andiamo adesso a applicare un momento torcente e vediamo cosa succede. Ci sarà sostanzialmente una rotazione della spira per l'effetto della torsione e contemporaneamente le nostre linee colorate che andavano da AA' e da BB' si sono spostate nel modo qui indicato. Cosa si deduce da questo cartello? Che lo scorrimento che potrebbe essere rappresentato dal rapporto fra la variazione in altezza del punto B dalla posizione precedente a questa nuova posizione, diviso per la lunghezza della spira, scusate, della linea, ci dà un'indicazione dello scorrimento, quindi dello scorrimento tangenziale. Questo scorrimento è molto maggiore nella parte di intradosso rispetto alla parte d'estradosso, almeno è tanto maggiore quanto più la molla è avvolta su un diametro di avvolgimento piccolo rispetto al diametro del filo. Quindi occorre tenere conto di questo fatto che si ripercuote in una maggiore sollecitazione delle zone d'intradosso rispetto a quelle che sono le sollecitazioni delle zone esterne. Questo cartello illustra in maniera qualitativa questo andamento della sollecitazione sulle spire e tenete presente che questo stesso problema che qui vediamo per le molle si incontra in tutti gli elementi che hanno una curvatura accentuata, ad esempio i ganci che potreste adoperare all'estremità di una catena per sollevare un carico. Questo effetto della curvatura quindi deve essere quantificato per poter correggere il valore delle tensioni tangenziali nominali che sono valutate con le formule dette prima. Per fare questo esistono dei coefficienti correttivi, il più conosciuto dei quali è quello di Waal. Definito un indice della molla come rapporto fra il diametro medio di avvolgimento e il diametro del filo, il coefficiente correttivo di Waal è un coefficiente che tiene conto sia dell'effetto di curvatura di cui vi ho accennato in precedenza, sia del fatto che sulla sezione del filo assieme alle sollecitazioni di torsione è presente anche una sollecitazione dovuta allo sforzo di taglio. Questo coefficiente varia con l'indice della molla ed è evidentemente vicino ad uno quando il filo è piccolo e il diametro di avvolgimento è grande, quindi la differenza fra una barra rettilinea e la barra curvilinea è una differenza modesta. Invece quando il filo è relativamente spesso rispetto al diametro di avvolgimento questo valore può essere notevolmente superiore all'unità. Di questo coefficiente bisogna tenere conto per il calcolo a fatica della molla, mentre un'altra correzione che a rigore occorrerebbe circa la deformabilità della molla, dovuta appunto all'effetto della correzione, alla curvatura può essere meno importante. Allora il calcolo della tensione tangenziale nelle spire delle molle elicoidali si effettua con la formula che avevamo già visto, per il caso della barra di torsione e poi introducendo il valore del momento torcente, f per di mezzi e semplificando la relazione tramite l'introduzione del coefficiente di valo. È anche comodo dal punto di vista progettuale, gli esempi sul libro di testo sono chiari a questo proposito, è anche comodo mettere in evidenza l'indice della molla, cioè il rapporto tra il diametro di avvolgimento e il diametro del filo, in quanto in questa maniera la relazione di calcolo è più semplice e permette di esplicitare una dimensione oppure un'altra che vogliamo stabilire. La deformazione delle molle elicoidali si può valutare applicando i criteri che avete imparato nei lezioni di corsi precedenti e quindi applicando sostanzialmente il principio dei lavori virtuali e può valutare l'abbassamento, l'avvicinamento delle due estremità della molla con una relazione qui rappresentata nel cartello ricavata svolgendo questo integrale e naturalmente calcolare in modo analogo la rigidezza. Nel calcolo di queste due quantità appare il numero delle spire efficaci, cioè anche nel caso delle molle elicoidali non tutto il materiale viene uniformemente deformato ma soltanto alcune parti e quindi occorre tener conto che ad esempio le spire delle estremità, essendo appoggiate sulle superfici degli organi meccanici su cui agiscono, non si deformano come le parti libere della molla. Il numero delle spire efficaci dipende quindi da come sono realizzati questi attacchi. Stabilite le sollecitazioni, in cosa consiste la verifica? Una verifica statica consisterà nel evitare che si superi un limite ammissibile della tensione tangenziale in modo tale da rimanere in campo elastico, quindi sarà una frazione della sollecitazione di snervamento del materiale. Inoltre dovremo generalmente evitare che la molla lavori fino a carico di blocco ed evitare problemi di instabilità, su cui torneremo fra un momento. Per la verifica fatica è ancora la verifica usuale, quindi si tratterà di confrontare l'ampiezza di variazione della sollecitazione affaticante con un valore ammissibile ricavato con delle curve di progetto che forniscono la resistenza a fatica della molla tenendo conto della tecnologia con cui essa è realizzata, valore che dipende a parità di materiale e di altre situazioni dall'ampiezza di variazione del carico, dal valore medio della sollecitazione e dal numero di ripetizioni della sollecitazione contro cui vogliamo cautelarci per evitare una rottura per fatica. Bisogna inoltre tenere presente l'influenza dell'ambiente, quando questo possa essere dannoso, della possibilità di sovraccariche e delle eventuali effetti benefici del pre-setting, cioè dell'avere deformato preliminarmente la molla in modo tale da ottenere, dopo lo scarico, un stato di equazione residuo favorevole, stato di equazione favorevole anche creato dalla pallinatura. Vi ricordo in particolare che le possibilità di sovraccarico dinamico possono essere dovute a fenomeni di vibrazione della molla stessa o del sistema meccanico di cui la molla fa parte. Le molle hanno la possibilità di cedere per instabilità laterale, sostanzialmente come le aste caricate di punta. A secondo di come sono vincolate alle estremità, ci sono varie possibilità di instabilità che qui è illustrata in questo cartello e quindi occorre proporzionare la molla in modo tale da rientrare entro certi parametri di proporzionamento che assicurano che questa instabilità non possa sussistere. Tipicamente questo problema della instabilità dipende sia dall'entità della freccia rispetto alla lunghezza libera della molla, sia dal rapporto tra la lunghezza libera della molla e il diametro d'avvolgimento, quindi dovremmo fare in modo di restare nel campo di stabilità. Il campo di stabilità può essere esteso con opportuni elementi di guida da realizzare sulle molle quando queste siano di particolare lunghezza. Un altro problema tipico delle molle, degli elementi elastici, è la possibilità di vibrazioni proprie. Questi cartelli in successione dovrebbero dare una specie di effetto di animazione sufficiente a far capire come può avvenire la propagazione di un'onda elastica di deformazione da un'estremità all'altra della molla. La frequenza propria per cui questo fenomeno avviene può essere determinato ricordando che in generale le frequenze proprie di un sistema di rigidezza data e di massa data sono sempre di questo tipo, quindi sono sempre proporzionali alla radice quadrata di un parametro che è indicatore della rigidezza e di un parametro indicatore della massa che è oggetto del moto vibratorio. Nel caso particolare delle molle quindi ci sarà una proporzionalità della rigidezza con la rigidezza che avevamo già stabilito e della massa con il volume della molla che partecipa alla deformazione e quindi la frequenza naturale sarà proporzionale a meno di un opportuno coefficiente che può dipendere anche dal modo con cui la molla è supposta vincolata con queste grandezze che sono grandezze di proporzionamento. Accenniamo adesso molto rapidamente alle altri tipi di molle. Sempre usando del filo a volte aspire si possono realizzare delle molle cosiddette di torsione. Vediamo in questi due cartelli sia il dimensionamento delle molle di torsione sia come esse possono essere sollecitate. Nel secondo cartello si vede un perno montato sull'interno di questa molla di torsione. Quello che però appare subito è che la sollecitazione della spira della molla non è di torsione ma è anzi una sollecitazione di flessione. Se consideriamo per esempio la spira che si trova in questa posizione, la forza esterna applicata agisce rispetto a questa spira con un braccio che porta a flessione la spira stessa. Quindi tutto quello che si è detto circa la concentrazione delle sollecitazioni sulle molle vale certamente anche per questo altro tipo, però l'effetto di concentrazione dovuto alla curvatura sarà diverso rispetto a quello che abbiamo valutato col coefficiente di val nel caso delle molle elicoidali di compressione. Sempre con le molle con spire possono essere realizzate anche a sezione rettangolare per avere più materiale, quindi maggiore capacità di assorbire energia a parità di peso della molla, di volume totale. Le spire possono essere avvolte su superfici non cilindriche, in particolare su superfici coniche per permettere durante lo schiacciamento che non si raggiunga la condizione di blocco ma le spire penetrino una dentro l'altra dando a molla completamente schiacciata un minimo ingombro. In generale possono essere progettate molle di varia configurazione anche per ottenere delle caratteristiche elastiche variabili con il carico. Un'altra possibilità è quella di realizzare delle molle a spirale piana che sono simili diciamo alla molla di torsione di cui avevamo visto, quindi sono molle in cui il materiale in realtà lavora a flessione e che sono molto usate in riavvolgitori ed anche in semplici motori elastici. Un'altra classe di molle quindi è quella delle molle di flessione, quindi quello in cui il materiale lavora a flessione. Parlando di questo è possibile introdurre un altro concetto generale che ci sarà utile nella costruzione delle macchine, quello dell'utilizzazione del materiale. Noi vogliamo che le molle siano relativamente leggere, quindi che tutto il materiale sia capace di assorbire l'energia se per esempio questa è la sua funzione, abbiamo visto che è anche conveniente che siano leggere perché dalla massa della molla dipende la frequenza propria di vibrazione. Vediamo allora la più semplice delle molle di flessione, una lamina appoggiata all'estremità come una trave appoggiata all'estremità, quindi il momento flettente varia da un'estremità all'altra secondo questa legge e la sollecitazione in qualunque sezione della molla, immaginata che questa abbia sezione rettangolare, è rappresentata in questo cartello con delle tonalità di grigio più o meno intenso, quindi dove è poco sollecitato abbiamo un colore vicino al nero e invece dove è molto sollecitato un colore vicino al bianco. Dato l'andamento del momento flettente, dato il fatto che negli elementi soggetti a flessione e a torsione ci sono delle zone neutre non caricate, in una molla che fosse fatta a sezione costante da cima a fondo le zone centrali sarebbero fortemente sollecitate in corrispondenza alle due parti più distanti dall'asse neutro, mentre le zone d'estremità sono poco sollecitate. Per poter evitare che questo porti a una cattiva utilizzazione del materiale possiamo ricorrere a una variazione della sezione, possiamo fare una variazione in altezza, quindi far variare l'altezza della sezione con un'opportuna legge in modo tale da mantenere le sollecitazioni in tutte quante le parti esterne della nostra molla, lamina, ugualmente sollecitate. Oppure possiamo fare variare la larghezza della molla, quindi possiamo far variare la larghezza allo stesso scopo, per mantenere sostanzialmente invariata la sollecitazione massima. Questo concetto era ben noto e lo stesso Galileo diluppò l'idea di un elemento a sezione variabile in altezza. Nelle bolle a riflessione si preferisce dei due criteri, quindi quello di far variare la altezza o far variare la larghezza, spesso si preferisce quello di far variare la larghezza, quindi si sceglie la seconda opzione fra quelle che sono rappresentate su questo cartello. Quindi bisognerà fare variare la larghezza dando sostanzialmente alla molla una forma impianta che è una forma simile a un rombo. Quindi idealmente vorremmo realizzare una molla fatta in questa paniera. Naturalmente una molla con questa configurazione non sarà di ingombro piccolo e generalmente non è pratica. Allora si può approssimare questo rombo con una spezzata e se ciascuno di questi elementi viene poi realizzato separatamente, quindi vengono tagliate delle strisce la cui larghezza è indicata qui sul cartello con i tre colori e poi si sovrappone l'una sull'altra le tre strisce mantenendole peraltro capaci di deformarsi in maniera indipendente una dall'altra si ottiene la molla di flessione a balestra. Le molle di flessione a balestra sono antichissime, sono state usate come elementi di sospensione dei veicoli da secoli e presentano due aspetti interessanti. Oltre alla possibilità di configurarle in maniera ottimizzata, come abbiamo già detto, permettono di essere precaricate all'atto del montaggio costruendo le singole foglie con delle curvature diverse e poi unendole insieme, in questo caso con una staffa che li unisce, si otterrebbe un precarico iniziale della nostra molla balestra. Quindi la nostra molla è inizialmente già leggermente precaricata dall'avere unito insieme foglie di diversa curvatura, sotto carico, quindi sotto l'azione delle forze esterne come mostra questo cartello, la sollecitazione si modifica essendoci una componente di sollecitazione dovuta ai carichi esterni che grava di meno su quelle parti sollecitate a trazione che sappiamo essere sempre il punto debole per la resistenza fatica. Nelle molle a balestra inoltre vi è un certo moto relativo fra le singole foglie della balestra durante la deformazione e quindi c'è una certa possibilità di attrito e di dissipazione di energia, quindi le molle a balestra servivano anche da organo di sospensione completo avendo sia funzioni elastiche sia funzione di smorzamento. Dissipazione dell'energia troviamo in altre molle simili a quella che adesso vedete inquadrata nel schermo come le molle a tazza. Le molle a tazza sono, come mostra questa figura che adesso vedete sullo schermo, possono essere di varie configurazioni sia con degli intagli interni sia senza intagli interni. Noi parleremo soltanto di quelle senza intagli. Allora, ritornando al nostro cartello, vediamo quindi come si deforma la nostra molla a tazza una volta che è soggetta ad un carico esterno. Ci sarà quindi una deformazione che porta con se una sollecitazione del materiale che è bene illustrare brevemente per capire meglio cosa avviene nell'anello così deformato. Prendiamo un caso più semplice, immaginiamo un anello di sezione non a tazza, diciamo, è appoggiato all'estremità. Prendiamo due fibre circonferenziali distante la distanza RAB dal centro. Vediamo, esagerando molto la deformazione, cosa succede quando applichiamo un carico esterno. vediamo allora che la fibra A si avvicina leggermente all'asse, la fibra B si allontana dall'asse. Quindi la lunghezza delle due circonferenze prima o dopo la deformazione è diversa dalla lunghezza iniziale. Quindi ci sarà una sollecitazione circonferenziale o di trazione o di compressione che è la sollecitazione prevalente in questo tipo di organi ad anello. Le molle a tazza, ma anche le flange rispondono a questo specie di schema. Le caratteristiche delle molle a tazza sono molto interessanti perché, pur essendo il materiale sollecitato in campo elastico lineare, noi possiamo avere dei comportamenti molto diversi col proporzionamento della molla. Quindi aumentando, passando da una molla relativamente massiccia, quindi di grosso spessore e con un'altezza rispetto al piano d'appoggio piccola, quasi in piano, a una molla che invece ha una conicità molto marcata, si possono avere comportamenti che possono addirittura tendere a una inversione della regge carico-deformazione per quella particolare deformazione che corrisponde al completo appiattimento della molla stessa. Questo effetto si ottiene anche in maniera particolarmente versatile con la molla a intagli interni, quindi che permette, giocando sul dimensionamento degli intagli nell'interno, permette di ottenere questo comportamento che qui è indicato con la curva superiore. Un'altra caratteristica quindi di questo tipico comportamento è quello di avere una bistabilità, quindi possiamo avere un effetto di scatto quando passiamo dalla configurazione indicata adesso dalla freccia alla configurazione B che adesso sto indicando. Una molla che fosse uniformemente sollecitata in trazione avrebbe la massima utilizzazione del materiale, il materiale sarebbe ugualmente sollecitato in ogni suo punto, quindi anche un tirante può essere considerato una molla e una molla ad alta utilizzazione del materiale, però le molle di trazione che sono impiegate nella tecnica sono realizzate in realtà con un insieme di anelli conici calettati l'uno sull'altro, quindi molto simili a quelli che abbiamo visto nei calettatori tra albero e mozzo in alcune lezioni fa e sotto l'effetto dei carichi applicati l'anello esterno che nel calettatore troverebbe il contrasto del mozzo, qua non ha nessun contrasto e quindi può espandere, però nel fare questo il materiale è sollecitato, quindi le fibre vengono sollecitate circonferenzialmente a trazione in maniera quasi uniforme. C'è però un notevole attrito fra le superfici troncoconiche, quindi queste molle mostrano di già un notevole scostamento dalla semplice legge dell'elasticità in quanto il ritorno avviene dopo una fase di riduzione del carico a deformazione invariata e poi un ritorno a deformazione zero e tutta l'aria sottostante a questo triangolo OAB è energia dissipata per ciclo. Vengono usate ad esempio nei respingenti dei carri ferroviari. Un elevato smorzamento interno caratterizza gli elastomeri, le gomme, sia naturale che sintetiche, di elastomeri e di gomme, c'è una grandissima varietà. tramite questo materiale è possibile fare una grande quantità di tipi di molle non metalliche che presentano oltre allo smorzamento interno e un ridotto ingombro la possibilità di adattarsi aggiunti a organi di parastrappi, a elementi di moltissimo tipo, di varissimo tipo. Un classico impiego è quello degli organi di sospensione per il macchinario, per esempio per sostenere un motore di un autoveicolo sul telaio. Materiali non metallici, come abbiamo detto, si possono anche usare e realizzare ma molle di tipo diverso. Come pure utilizzando le leggi della fisica dei gas compressi si possono realizzare delle molle a gas. Vediamo adesso brevemente qualcosa sulle molle realizzate con elementi di gomma. Un tipico esempio è qui rappresentato, quindi una bussola centrale e una bussola esterna, entrambe metalliche, unite insieme da un tassello anulare di gomma che viene incollato ad entrambi queste boccole. Sotto carico questo elemento si deforma assialmente e quindi come una molla di compressione vi sarà una certa relazione fra carico applicato e deformazione di abbassamento del boccola interna rispetto all'esterno. Questa relazione sarà tutt'altro che lineare. Infatti le caratteristiche meccaniche della gomma che sono riassunte in questo cartello mostrano che pur avendo un comportamento elastico, è un comportamento fortemente non lineare, generalmente comporta delle deformazioni che sono grandi, al contrario degli organi, il materiale metallico che hanno delle deformazioni così piccole che spesso nel calcolo possono essere trascurate e la quantità di energia dissipata è elevata. Con molle in gomma si possono ottenere caratteristiche elastiche anche diverse a secondo della direzione dei carichi applicati, per esempio in questo caso un semplice tampone in gomma incollato a due piastre d'acciaio di supporto ha delle caratteristiche diverse in trazione, in compressione o se sollecitato a scorrimento nella direzione degli assi X o Y. Infine dobbiamo accennare brevemente alle molle a gas che hanno un notevole impiego sulla tecnica e che da sole richiederebbero forse una trattazione a parte. Esistono sia nella configurazione in cui è la variazione di volume creato dall'entrata e uscita dello stelo nella parte in pressione che dà origine alla risposta della molla, sia altri sistemi in cui tramite un fluido intermedio si pressurizza una camera piena di gas in cui un tenuto separato da questo fluido intermedio dà un opportuno diaframma. Terminando vi raccomando non soltanto di risvolgere gli esempi che sono riportati nel cartello, ma anche di riguardare il capitolo 7 del testo del Giovinal che riguarda i problemi di urto, di impatto che hanno una stretta attinenza con l'impiego di molti organi elastici.